305, il mensile del basket, ritorna in edicola da giovedì 21 febbraio, con un numero ricco di approfondimenti. All'interno, Cedric Simons, il lungo che tutti ci invidiano. Pietro Aradori, Cantù, saprà risollevarsi. Final Eight, Brindisi, tra le più applaudite. Simon Shevcic, passione e sacrificio per Venezia. 305, il mensile del basket, ritorna in edicola da giovedì 21 febbraio. Non perdere tempo, corri!